ma cari ragazzi buongiorno e benvenuti ad un rapido unboxing non prima di avervi ricordato che ho in posa il buso di carité del saponificio valesino che posso anche mostrarvi questa sera eccolo qua ragazzi che io vado ad applicare ogni sera per andare a donare alla pelle questa azione emollente e nutritiva nonché prepararla alla rasatura del giorno successivo infatti io sto registrando di sera questo unboxing anche se lo vedrete domattina lo mando in onda domattina e quindi ho in posa questo buso di carité dopo prima di andare a nanna l'eventuale cesso lo vado a tamponare con una velina di carta e quindi tutta la notte avrò la pelle bella riposata e pronta per un'altra sbalvata perché se così non facessi non potrei sbalvarmi tutti i giorni ma passiamo a questo acquisto effettuato cogliendo l'opportunità di uno sconto 30% che è stato riservato per un weekend a tutti sugli acquisti online ecco qua da parte di Rinascente la scorsa volta avevo soffritto di uno sconto del 40% per il comeback in Rinascente perché era da un anno che non compravo poi settimana scorsa praticamente c'è stato questo ulteriore sconto questa ulteriore possibilità di una finestra del weekend del 30% di sconto e ne ho approfittato anche perché ho notato che c'erano stati dei nuovi arrivi un riassostimento e quindi non ho voluto farmi riscattare perché questi li avevo adocchiati già l'anno scorso ed anche un paio di anni fa però erano andate esaurite le taglie stavolta che le ho trovate ho detto di certo non me le faccio sfuggire ecco qua c'è una busta e voilà un regalo pensato per te ma in realtà regalo non è perché l'ho pagato questi sono tutti acquisti ragazzi non sono sponsor eccolo qua costumino estremamente elegante di colori blu con logo Tommy Alfeiger eccolo qua ragazzi molto bello mi piaceva e me lo sono preso e poi ancora un altro costumino bellissimo questo ragazzi mi piace tanto con i colori di Tommy il figure dove il colore dominante è il blu e poi ci sono le due fasce laterali rosso e bianco proprio come è il logo di Tommy Alfeiger e penso chi di voi conoscerà saprà che è così ecco qua ragazzi due bei costumini estremamente carini e carucci che mi sono voluto regalare so già che molti di voi diranno ma come sei pieno di costumi e beh vorrei dire che ne cambierò uno al giorno sempre meglio che andare senza costume bene ragazzi veramente un unboxing rapidissimo questo pure è molto bello guardate con questa scritta che gira poi sul fianco guardate che eleganza che finezza ok e anche se questo weekend si preannuncia un po' freddino quindi temo che non potrò andare al male però li teniamo sicuramente ad un modo di indossarli benissimo ragazzi non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di lavoro un felice weekend che si sta approssimando perché è venerdì questa mattina in cui voi guardate il video che è appena uscito quindi grazie a tutti buon lavoro buon proseguimento di giornata buon inizio di weekend e arrivederci a tutti al prossimo video grazie ciao grazie a tutti